Ecco, ragazzi, e bentornati al TCF Podcast, siamo un po' partiti un po' in sincrono, ma semplicemente perché io non sapevo che lui sarebbe partito all'improvviso dicendo una battuta, però vabbè. Allora, oggi siamo puoi parlare dei dati di Donatello, che sono avvenuti tipo qualche settimana fa. Allora, la puntata sarà organizzata così, noi leggeremo le candidature che ci sono state per i dati di Donatello 2022 e poi leggeremo i vincitori. Se ci sarà una vittoria, appunto, che va ampliata o commentata, appunto, lei farà il nostro caro Pierre. Quindi, noi partiamo, le leggerò io, e se vuole, Pierre, però dirò anche la mia, ma in maniera un po' più ridotta. Ok, possiamo iniziare e iniziamo, non partiamo subito da Mirfilm perché sennò gioviniamo già tutto. Partiamo con la prima, ovvero, miglioratrice e protagonista, erano candidate Luisa Ragneri per E' stata la mano di Dio, Susi del Giudice e Fratelli di Filippo, Lar Minuta, Vanessa Scalera, scusate, qui rido io invece Cristina Dell'Anna, e l'ha vinta Luisa Ragneri. Va bene, ci sta. Poi, invece, miglior scenografia va a Massiliano Studiale per Fix Out. Adesso vado a recuperare la scenografia perché io ce l'ho un po' organizzata male le cartelle qua. Scenografia, scenografia. Perché devi capire, vabbè sì, questa parte l'ha tra io in editing, ma io ci ho messo il sito dei David, poi c'ho la scritta di Telegram dove ci sono tutte le storie, quindi è un po' un disastro. Facciamo una cosa, facciamola alla vecchia maniera. Scenografia. Ok, quindi, miglior scenografia, aria ferma, Luca Servino, Susanna Benavoli, Diabolik, Noemi Marchia e Maria Michele Domenico, Carmine Guarindo, Iole Autero, è stata la mano di Dio, Fix Out, Massimiliano Storiale, Ilaria Pallacara, Qui rido io, Giancarlo Muselli, Carlo Reschigno, Laura Casalini e Francesco Fonda, vincitore, appunto, Massimiliano Suriale e Ilaria Pallacara, ciao, Pallacara, per Freaks Out. Vabbè, questi sono un po' più tecnici, quindi non entriamo troppo nel dettaglio, ma adesso partiamo con le cose veramente serie, ovvero miglior attore non protagonista. che è andata, che, non, protagonista, allora, è stata la mano di Dio, allora, no, aspetta, protagonista, non, mettiamoci attore, va, così, allora, aspetta, ok, non, ok, quindi, aria ferma, Fabrizio Ferracane, Diabolik, Valerio e Massandrea, è stata la mano di Dio, Tony Servillo, Freaks Out, Pietro Castellitto, e infine, Edoardo Scarpetta, qui rido io, appunto, vincitore, Edoardo Scarpetta. Devo dire, è molto meritata, è un bravissimo attore, Edoardo Scarpetta, uno dei signori film, vada pure con la sua opinione. Allora, c'è da dire che io dei primi candidati al David ne ho visti veramente pochi, quindi non è che io possa dare un'opinione così generale, però, per quel che ho visto, vero, è stata la mano di Dio, qui rido io, Freaks Out e Diabolik, quindi è davvero pochissima roba su tutto quello che hanno candidato, che non è che si agisce questa quanta roba. È anche difficile da recuperare, questo è il vero problema. Diciamo che effettivamente premiare Valerio Massandrea o Pietro Castellitto, non lo so, perché alla fine, in Freaks Out, uno dei problemi è il fatto che non, forse non si, uno dei problemi che qualcuno potrebbe riscontrare, perché forse non si dà l'equivalenza di spazio a tutti i personaggi, sembra che ci sia maggior focus su Franz e a Matilde, che sono un po' due personaggi agli antipodi, uno che è un personaggio che rifiuta il suo potere, è un personaggio che lo utilizza a suo vantaggio, mentre gli antipersonaggi sono poco presenti, ma comunque carismatici. Tony Servillo forse sarebbe stata un po' prevedibile che avrebbe vinto, però effettivamente Edoardo Scarpetta, che comunque ricordiamolo, è discendente proprio lui della grande famiglia degli Scarpetta, e mi effettivamente includerlo in qui, dito io, che comunque non è un brutto film, però alla fine per essere un biopic sembra quasi un sequel, a me di quello se ne potrebbe parlare all'infinito, magari ne parlerò il 2 giugno quando uscirà la recensione, visto che il 2 giugno avrete una sfilza di recensioni di film italiani e lì ci sarà proprio da parlarne. E effettivamente se l'è calata Scarpetta, dai, non lo vedo da un sacco il film, però ricordo che non se l'è raccavata male. Dai, ci può stare. Poi passiamo, vabbè, durante la cerimonia sono stati anche dati dei premi speciali, non ho capito per cosa, vabbè, tipo un premio speciale basta Brina Ferilli, poi andrà altri, ma poi ci passiamo dopo. Mentre, migliore esordio alla regia, avevamo avuto Il Cattivo Poeta Gianluca Giodice, Maternal Maura Delpero, Piccolo Corpo Laura Samani Re Granchio Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis e infine Una Femmia di Francesco Costabile Vittoria Laura Samani Io ci avrei dato però il premio a Gianluca Giodice per Il Cattivo Poeta che secondo me è veramente uno dei migliori film di questo regista perché so che è il suo primo film letteralmente però se ne ha fatto un altro lavoro è Piccolo Corpo non è che sia tutta sta roba Invece migliori costumi Aspetta che la vada Allora ecco Invece migliori costumi Diabolic Ginevra De Carolis è stata la mano di Dio Mariano Tufano Freaks Out Mari Montalto i fratelli di Filippo Maurizio Milenotti e Ursula Pazcat per cui rido io appunto quest'ultima ha vinto e va bene sì ci sta i costumi di qui rido io sono anche abbastanza buoni beh effettivamente sì perché comunque è stata la mano di Dio è ammigliato più o meno nella contemporaneità si parla degli anni 80 però comunque non è come qui rido io che è ammigliato nel novecento nei primi del novecento comunque in un'epoca che non è più così contemporanea quindi il fatto di dover ricostruire una relazione molto lontana dalla dalla contemporaneità che noi potremmo mettere negli ultimi 30 anni cioè non è un'ambientazione per la quale è facile ricostruire cioè si può fare però devi sapere pure ricostruire per bene quelle che erano le ambientazioni con le scenografie o per esempio i costumi che devono essere attinenti con quelli che in questo caso poteva vestire De Filippo durante i suoi spettacoli quindi ci può stare come vittoria esatto passiamo invece alla migliore sceneggiatura originale candidature a Chiara Jonas Carpignano Leonardo I Costanzo per Ariaferma è stata la mano di Dio Sorrentino Fix Out Nicola Guaglione Gabriele Mainetti qui riedo io Mario Martone e poi Tei Maio vincitore Ariaferma appunto se non è Ariaferma è comunque un buon film in effetti si sceneggiatura molto originale ben scritta e alla fine il film funziona anche perfettamente da solo poi invece passiamo alla migliore attrice migliore attrice protagonista allora candidature a Chiara su Amirotolo Diabolic Miriam Leone Fix Out Aurora Giovinazzo Giulia Rosa Palasciano e qui riedo io Maria Nazionale vincitrice a Chiara su Amirotolo allora non l'ho visto a Chiara parto da questo protoposto ma per una questione di preferenze io avrei dato il mio voto o Aurora Giovinazzo per Fix Out o Miriam Leone certo Leone non è che ha fatto chissà quale lavori diaboliche però anche Aurora Giovinazzo cioè il suo ce l'ha messo in Fix Out mentre adesso passiamo il migliore autore della fotografia invece migliore autore della fotografia abbiamo America Latina Paolo Carnera Ariaferma Luca Bigazzi è stata la mano di Dio Daria Antonio Fix Out Michele D'Atanasio e qui riedo io Renato Berta vincitrice ci sono due perché uno è un ex equo ovvero Daria D'Antonio è stata la mano di Dio e Michele D'Atanasio per Fix Out Invece migliore autore protagonista America Latina Elio Germano Silvio Orlando Ariaferma è stata la mano di Dio Filippo Scotti Fix Out Franz Rogowski penso che l'ho detto tutto bene e qui rito io sono in Servillo vincitrice vincitore Silvio Orlando per Ariaferma molto d'accordo perché ha fatto un ottimo lavoro Orlando è una delle sue migliori interpretazioni anche se Elio Germano in America Latina penso che abbia fatto lì anche un buon lavoro anche se il film è molto discusso passiamo invece alla migliore canzone originale Diabolik La Profondità di Abissi di Emanuele Agnelli i fratelli di Filippo Paccio Apolca Nicola Piovani Lar Minuta Just You Giuliano Taviani eccetera Marilyn Agli Occhi Neri Nei Tui Occhi Francesca Michelin e Andrea Parri Piccolo Corpo Piccolo Corpo vabbè Fredrica Stahl Vincitore La Profondità di Abissi Sia un'ottima canzone rispetto alle altre che erano state candidate poi diciamo che la profondità degli Abissi è la cosa che ricordo di più del film per il resto non è che cioè non è che me lo so dimenticato perché alla fine l'ho visto quando è uscito in sala che non è così tanto tempo fa certo è alla fine dell'anno scorso se non sbaglio non vorrei sbagliarmi però è un po' un casino quel film C'è proprio Boone si è stato un gran peccato perché erano comunque degli ottimi attori nel cast è stata una bella tragedia miglia racconciatura Sette donne è un misterio Sette donne è un mistero Alberto Giuliani a Chiara Giuseppina Rotolo Diaboliche Luca Pompossi Marco Perna per Fix Out e i fratelli di Filippo Francesco Pegoretti vincitore Marco Perna che devo dire in effetti hanno fatto un gran lavoro soprattutto con oddio se non viene il nome ma è lo stesso attore di G. Grobo il film ah che non me lo ricordo Santa Maria eh sì esatto che hanno fatto tutto quel lavoro che si è mai diventato eh Chewbecka ma anche i lavori tipo a France eh appunto il tedesco dei film eh bene molti un lavoro poi miglior film internazionale miglior film internazionale Bellpast regia di Kenneth Braga Don't Look Up Adam McKay Drive My Car Ryusuke Amaguchi Dune Dennis Villen Il Potere del Cane o The Power of the Dog di Jane Champion vincitore Bellpast di Kenneth Braga molto meritata certo eh un gran peccato che alla cerimonia non c'era Braga ma c'era il protagonista bambino del film eh non non ricordo perfettamente adesso perché è passato un po' di tempo ma mi ricordo che era abbastanza emozionato di di appunto prendere in mano questo David poi questa scena non la potete vedere però è la scena che si vede una scena che si vede nel trailer non so perché ma io ci ho visto un po' di Nuocina Paradiso poi boh non che sia nuova cosa del bambino al cinema potrebbe anche essere stata diciamo coniata da Nuocina Paradiso però mi ricorda quello poi il film potrebbe prendere una trama completamente diversa io non conosco il film so solo che Branagh è un grande regista britannico di teatro un attore di teatro straordinario che ci ha regalato Hamlet Rico V appunto Belfast ma anche un po' delle cagate come potrebbero essere Artemis Fall o Artemis Fall della Disney sì a molti possono anche considerare le sue interpretazioni in Assassin's Creed Nilo e Assassin's Creed Oriente Express un po' ma però non lo so a me è sempre piaciuto e comunque non penso che si sia perso così tanto con gli anni invece miglior montaggio a Chiara Affonso nome strano mi spiace ariaferma Carlotta Cristiani è stata la mano di Dio Cristiano Travaglioli Ennio Massimo Quaglia Annalisa Schillaci qui rido io Giacomo Quadri migliore ovviamente il premio scusate va a Ennio e ci sta ci sta ottimo film Ennio appunto perché adesso passiamo al miglior documentario miglior documentario abbiamo Atlantide Yuri Ancarani Ennio Giuseppe Tornatore Futura Pietro Marcello Francesco Munzi e Alice Raw Watcher Marx può aspettare Marco Bellocchio e Onde Radicali Gianfranco Ranno Pannone scusate premio va a Ennio Dica pure effettivamente è Ennio questi due credo siano gli unici due premi che ha vinto perché mi sono un attimo distratto eh no no qui ne ha vinti altri ma ci arriviamo dopo eh? ne ha ricevuti altri ma poi ci arriviamo dopo ah ok non lo sapeva vabbè comunque alla fine come documentario è un comunque siccome molti sapete spero Tornatore ha lavorato per anni con con Morricone e questo questo documentario che prende eh un lavoro di tutta una vita che tra l'altro è in lavorazione già da prima che eh Morricone morì morisse nel 2020 è stato un lavoro incredibile di trovare tutta la gente che ha collaborato negli anni con lui oltre vabbè ai diciamo ai soliti che possono essere Carlo Verdone che non è che ci abbia collaborato direttamente con Morricone però diciamo di sì eh sì io non ho non ho ancora capito a questa questione di Carlo Verdone no aspetta forse perché andavano a scuola insieme andavano a scuola Morricone ehm Sergio Leone e Carlo Verdone erano amici di scuola quindi si sono riuniti eh magari anche per lavorare indirettamente insieme sì migliore forse sarebbe Sergio Leone ma ovviamente questo che è morto non è che sono fai chissà che in questo documentario lavorazione da un sacco e prende ci sono un sacco di di personaggi famosi da Clint Eastwood da Verdone a Rolange Offè che vabbè molti lo ricordano per per film di Super Mario ma quello è un altro discorso c'è anche Hans Zimmer Oliver Stone Bertolucci Piovani Springsteen Lina Vertiuler prima che si muovisse anche lei anche Giuliano Montaldo i due taviani prima che uno di loro morisse eh Caterina Caselli eh Zucchero Williams Solima Castellari non magari non tutti diciamo presenti diciamo come interviste fatte in quel momento magari alcune erano delle interviste di repertorio perché ahimè molti dei partecipanti a questo documentario sono immagini di archivi perché la versione era morta però è un bellissimo documentario che sinceramente si è meritato tutti i premi che meritava io sono riuscito a verlo due volte e per ben due volte e volato come se non fosse niente cioè sono quasi tre ore perché alla fine sono quasi tre ore sono due ore e mezza anzi sono due ore e mezza i documentari che se ne volano poi dipende anche se ti interessa l'argomento se sei propenso poi a recuperarti i film di cui si parla e niente ho fatto un un giro di parole per dire che è straordinario vabbè si è giusto importante dirlo poi vabbè altro premio speciale Antonio Capuano mi sembra che sia un grande amico di Paolo Sorrentino appunto l'ha anche accompagnato quando gli hanno dato questo premio non ho capito se altrimenti costaranno questi premi speciali ma dettagli poi migliore sceneggiatura non originale Diabolic Manetti Bros Lar Minuta Monica Zappelli La Scuola Cattolica Massimo Gaudioso Luca Impascelli e Stefano Mordini La Terra dei Figli Filippo Gaviano Guido Iuculano Claudio Cuppellini Tre Piani Nanni Moretti Federica Pontremoli Valia Santella Infine Una Femmina Lirio Abate Serena Pugnoli eccetera Vincitore Lar Minuta Monica Zappelli Invece Miglior Regia Passiamo già i premi un po' più segretti io se la ritrovo Regia sai com'è la la ritroverò la ritroverò un giorno ecco la ritroverò la ritroverò la ritroverò la ritroverò ok trovata allora quindi Miglior Regia Ariferma di Leonardo Di Costanzo è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Ennio di Giuseppe Tornatore Tricks Out Gabriele Mainetti e qui rido io di Mario Martone vincitore è stata la mano di Dio premiazione del tutto meritata e niente ottimo ottimo premio invece Miglior Compositore a Chiara ma America Latina Ariferma Diabolic Fix Out si non li voglio leggere tutti perché staremo troppo tempo a perderci infine Fratelli di Filippo che si è giudicato la vittoria appunto Nicola Piovanni invece Miglior Trucco Diabolic Francesca Lodoli è stata la mano di Dio Vincenzo Mastrantonio Fix Out Diego Prestopino i fratelli di Filippo Maurizio Nardi e qui il due io Alessandro Danna vincitore Fix Out che quindi va a Diego Prestopino invece Miglior Film Davide Giovani come un gatto intangenziale Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani Diabolic di Manetti Bros è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Ennio e la terra dei figli di Rodolfo Migliari e Roberto Saba vincitore Fix Out Stefano Leoni che se ricordo bene Stefano Leoni è quello che ha lavorato pure agli effetti visivi di L'Isola delle Rose Ottimo film che vi consiglio di recuperare sta su Netflix Miglior Suono Aria Ferma è stata la mano di Dio Ennio Fix Out e qui rido io vincitore Ennio ora arriviamo all'ultimo premio vinto ovvero Miglior Film appunto le candidature erano è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Ennio di Giuseppe Tornatore Fix Out di Gabriele Mainetti e infine qui rido io di Mario Martone vincitore è stata la mano di Dio del tutto meritata questi Davide e Natello sono stato d'accordo su tutto non come è successo con gli Oscar che sono stato molto in disaccordo su molte vincite che non erano degne a premio e niente qua arriviamo alla chiusura delle vincite mi sa che ne ho persa una perché c'era un miglior premio alla carriera che è una trick che era data l'anticittaliana mi spiace ma mi sono indicato di scrivermelo e infine niente secondo me comunque Davide e Natello andati benissimo tutte le candidature ci stavano e niente la tua opinione Pier in generale allora la conclusione di questa lunga carrellata di premi che alla fine ci sarebbe tecnica anche quello lì che non ti sei dimenticato era quello Giovanna Ralli che non ho idea di chi sia sì forse attrice negli anni 60 mi spiace questa mancanza abbiamo mancato i cortometraggi ma credo sia una delle cose più difficili da recuperare perché non hanno una distribuzione spesso quindi boh sì appunto lo spettatore ma tutti li vedono realmente ah sì appunto mi ha indicato che io non l'ho detto perché non mi andava neanche da dirlo miglior Davide spettatore me contro te erano usato perché appunto ha riportato un po' in auge il cinema italiano che comunque ha fatto un enorme numero di spettatori cioè mi sembra abbastanza alto sui 800 o qualcosa eh sì e niente questa è la puntata spero che vi sia piaciuta e in futuro faremo anzi non forse troppo in futuro facciamo anche una puntata sugli oscar che lascia veramente tanto a parlare lì la maggio parte delle persone li hanno visti i film sì prima di concludere vorrei fare questa piccola parentesi sul david giovani e quello dello spettatore per quello dei giovani e david giovani non era cioè è nato nel più o meno nel 2004 anzi nel 97 ma si fa dal 2004 e come votano quei film cioè come ha fatto è stata la mano di Dio a vincere Ross il david giovani hanno fatto un sondaggio tra dei ragazzi di scuole medie delle scuole superiori dell'università e in base ai voti hanno fatto questa votazione questa cosa è strano che dei ragazzi dei superiori si vede a vedere Sorrentino però tant'è ha vinto Sorrentino e non come un gatto intangenziale ed è questo buono invece il david giovani il david dello spettatore esiste dal 2019 quindi una cosa veramente recente e perché l'hanno messo in mezzo perché Gabriele Muccino si era lamentato che uno dei suoi ultimi film non aveva vinto un cazzo e quindi per accontentarlo hanno fatto il david dello spettatore ovvero il film che alla fine durante l'anno l'anno fiscale credo ha raggiunto il maggior numero di spettatori in questo caso è casa tutti bene un milione e quattrocento e trenta mila spettatori vince questo premio che non è molto sensato però nel duemila e venti abbiamo avuto il primo Natale di Ficarra e Piconi con due milioni 363 mila 303 spettatori che è un aumento incredibile ricordiamo che questo film è uscito nel 2020 quindi diciamo a cavallo tra il periodo della pandemia quindi è pure strano Tolo Tolo 2021 6 milioni 664 mila 622 spettatori ricordiamo che questi film escono sono usciti nei periodi in cui i cinema erano aperti e magari non c'erano tutte quelle limitazioni che per l'amor di Dio sono sacrosanti che ci sono ora mentre fa ridere in realtà il film di me contro te ha soltanto 805 mila spettatori quasi quindi veramente pochi però se andiamo a vedere altri film che abbiamo visto in questa puntata è strano pensare che i me contro te che vabbè li vedono i bambini visto che i bambini non possono andare al cinema da soli li accompagnano i genitori o il trello più grande quelli battono sempre cassa il biglietto conta anche se non è il bambino ma il genitore conta quindi conta le famiglie di tre persone perché il ragazzo è il figlio più grande si rompe le palle diciamo diciamo che la metà di questo numero sono soltanto i bambini potremmo dire e quindi niente è una solità strana è una solità che film del genere che a certa gente viene anche voglia di creare una categoria apposta solo per questi film perché va bene che per bambini e tutti e per tutto ma il film è me contro te candidato di Donatello ma dove siamo finiti al circo vabbè non è propriamente candidato ha vinto perché è un buon regista però cioè dai non se ne può non se ne può veramente non è candidato semplicemente ha vinto perché in questo periodo incasinato dove la gente non va al cinema perché boh non si sa perché forse perché ci sta Netflix chi lo sa è il film che ha incazzato di più non che non ci fossero film interessanti semplicemente la gente non era particolarmente interessata e questo è un male si fa discusa lo sbagliato ma mi sembra un po' assurdo che hanno creato una categoria che non è che viene usata più di tanto perché appunto vedendo dalle schermate che hai partito non è che ci sono state così tante vittorie insomma cioè no vabbè non ci aggiungo altro perché sennò finirai nel bannabile da Spotify quindi niente lascia stare e niente concludiamo qui questa puntata che è stata un po' più corta del solito circa mezz'ora però alla fine si tratta comunque di leggere una carrellata di candidature e commentarle quindi niente di troppo complicato come parlare di una romana come la nostalgia canaglia o i film tra i videogiochi esatto ma poi siamo andati come potuto vedere come avete potuto vedere abbiamo mi ha fatto il commento su cose veramente importanti che tipo costumi fotografia va bene che non la loro importanza ma fino a certo punto ovviamente perché non siamo appunto esperti del settore e poi un film di cui vorrei parlare in futuro magari sul canale mi piace parlare di tutti quei film che non si sono caricati di strisce e che non hanno vinto niente perché su quelli ci sta proprio da fare un discorso a parte semplicemente che non li hanno premiati perché non hanno avuto tanta visibilità o semplicemente perché anche loro hanno una dignità e quindi non hanno vinto nulla giustamente magari faremo un discorso a parte non con una puntata a parte magari una specie di riassunto cumulativo sul canale telegram dove appunto recensione di origine dei film italiani dal 2 giugno il 2 giugno anzi quindi vi saluto vi salutiamo e ci vediamo prossimamente si spera ciao ciao